Noi siamo qua, senatore Lusi, perché lei ha ammesso di aver preso una montagna di soldi che io quantifico genericamente in più di 20 milioni di euro. Tanto se sono 23 o 24 all'opinione pubblica interessa relativamente. Sono una montagna di soldi. Io vorrei capire, primo, come le è venuto in mente di appropriarsi di questa montagna di soldi. Secondo, perché ancora non sono riuscita a capirlo, che fine hanno fatto gli altri soldi che sono comunque stati utilizzati e che non sono finiti negli investimenti che lei ha fatto nella villa di Genzano, nell'appartamento di Montserrato, nei viaggi, nei ristoranti, che non sono stati usati da lei. Questo io ancora non l'ho capito. Io mi sono assunto tutte le responsabilità del tesoriere di un partito politico. Se un partito politico non avesse il tesoriere che si assume responsabilità in assenza di riscontri, cioè di ordini scritti, non ci sarebbe bisogno del tesoriere. Questo l'ho fatto, questo era giusto farlo, l'ho fatto dal 17 gennaio. Che cosa mi ha indotto a fare quello che ho fatto? Io ho applicato nei fatti un patto fiduciario che rappresenta. Lo stesso patto fiduciario che è stato negato da Rutelli, Bocci e Bianco, che sono i tre reggenti della Margherita. Dentro questo patto fiduciario, la restituzione di questi immobili che io ho già messo in campo dall'inizio di aprile e che è stata negata dai responsabili della Margherita, qualcosa fa pensare. Se dicono che vogliono restituire i soldi, però poi non accettano quello che loro chiamano il maltolto, qualcosa non quadra. Che fine hanno fatto gli altri soldi? Un minuto, prima, io le ho chiesto perché, che cosa è scattato nella sua mente quando faceva il tesoriere. No, ma non è scattato nulla, ovviamente. No, per cui si è preso tutti questi soldi, ci si è fatto i viaggi, si è comprato l'appartamento, andava a cena, a pranzo. Ci sono due parti di questa vicenda. Perché? No, no, la risposta è molto semplice, ci sono due parti di questa vicenda. C'è una parte che sono investimenti fiduciari, e cioè quelli che infatti oggi tornano a Margherita, qualora si decidono di andare dal notaio a firmare, visto che sono mesi che si aspetta che questo accadde. Cioè la villa, Genzano, l'appartamento. Gli immobili, di pregio, di valore, non ultimo la lettera. Lei le restituisce? È dal 3 aprile che abbiamo scritto questa cosa e aspettiamo che qualcuno vada a firmare dal notaio, altrimenti il maltolto non può essere restituito ai cittadini. Perché non ci vanno? Questo bisogna chiederlo a loro. Io penso che non ci vanno perché altrimenti temono che si smonti questa vicenda. Perché una volta che viene restituito il cosiddetto maltolto, questa vicenda assuma un contorno completamente diverso rispetto a quello che è stato detto agli italiani. Si vuole restituire, lo restituiscano. Per restituirlo lo devono prendere. Mi rispondo sul perché si è preso tutti quei soldi e si è usato. La seconda parte afferisce ad un patto scelerato, l'ha chiamata una sua collega di un giornale noto italiano. E cioè aver accettato che io facessi e compissi alcune operazioni finanziarie senza che questo fosse scritto da qualche parte. Cioè sulla base di un accordo verbale. E questo è stato il mio grande errore. Errore del quale io in qualche modo pagherò conseguenza e nel quale andrò a difendermi nel processo. Io non ho alcuna intenzione di difendermi dal processo. Cioè lei sta dicendo che si prendeva dei soldi? No, io sto dicendo... Molti soldi in cambio di operazioni che faceva... No, sto dicendo una cosa diversa. Dico che nei partiti, per questo ho iniziato a dire così, non c'è un meccanismo tipo consigli di amministrazione dove c'è qualcuno che scrive delle delibere e qualcun altro che le esegue. Ci sono dei meccanismi di rapporto totalmente fiduciario. In questi meccanismi di rapporto fiduciario le cose si dicono a voce, non si mettono per iscritto. Non c'è una spesa che io abbia sostenuto dal 3 agosto 2001 al 17 gennaio 2012 che abbia un mandato scritto, a parte una transazione di 25 milioni di euro sottoscritta nel giugno 2003 che stornava i quattro partiti origine della Margherita, quella somma, per il resto di 194 milioni di euro spesi in 11 anni non c'è una traccia scritta di qualcuno che abbia detto questi li spendi per comprare i mobili, questi li spendi per la carta, questi li spendi per altro. Allora, il tesoriere è uno che esegue degli ordini. Questi ordini sono verbali. Allora è molto semplice la questione. Laddove questi ordini non vengono confermati, questi ordini te li sei inventati tu, tesoriere in quel caso. Ed è la famosa differenza della quale io ho parlato con i magistrati nelle due occasioni in cui ciò mi è stato consentito fra verità storica e verità processuale. La prima, la verità storica, è quella dei fatti come sono avvenuti. La seconda è quella dove i fatti sono documentati, riscontrati, chiariti in un qualche modo. Allora, il patto scellerato del quale ho parlato prima e che una sua collega giornalista ha scritto su un giornale è stato esattamente questo. Cioè l'aver accettato da parte mia di compiere delle operazioni, di accettare una sorta di scambio e senza che tutto ciò fosse scritto da nessuna parte. Rimane il fatto che comunque lei si è preso una bella fetta. Ho spiegato. Ecco, quello che le chiedo è, era convinto che non la scoprisse mai nessuno? E poi era necessario quel tenore di vita così lussuoso? Perché uno che è stato boy scout, che è stato educato a certi valori, a un certo punto sente il bisogno di andare nei ristoranti a spendere centinaia di migliaia di euro, fare viaggi costosissimi? Perché? Che cosa le è scattato? L'impunità? Il senso del potere? Questa montagna di soldi pubblici di cui nessuno chiedeva conto? Dunque, in prima battuta è il caso di precisare una volta per tutte agli italiani, agli ascoltatori, che tutte le cose di cui lei mi sta parlando in quest'ultima domanda non sono oggetto di capo di imputazione. Tutte queste cose che la Margherita ha diffuso attraverso comunicati di parte sulle spese dei ristoranti, le spese dei viaggi, le spese di alberghi, non sono mai, la prego di verificarlo, oggetto di capo di imputazione. La mia domanda è un'altra. Aspetta, ti sto rispondendo. Intanto bisogna chiarire questa roba, altrimenti gli italiani pensano che tu vai, come dire, probabilmente mercoledì sera in carcere perché sei stato al ristorante, in albergo da un'altra parte. Le motivazioni sono diverse. Seconda questione, il perché. Intanto io le segnalo che fino a settembre del 2011 ho vissuto una casa di 90 meri quadrati con un bagno ed eravamo in sei. Quindi intanto cominciamo a ridimensionare ciò che è stato raccontato da ciò che è effettivamente avvenuto. Secondo, molte di quelle documentazioni che sono state parzialmente consegnate, dico parzialmente nel senso da una parte, consegnate ai magistrati, non sono mai state verificate. Nessuno ha mai verificato se quel ristorante... Aspetti, perché se non ha questa risposta altrimenti rimaniamo col dubbio di sempre. Nessuno ha mai verificato se quel ristorante l'hai pagato con la carta di credito personale tua oppure con una del partito. Io ho dimostrato che l'ho pagata con una carta di credito personale mia. La famosa cena alla rosetta del 14 novembre 2006 di cui si parla di caviale e champagne in continuazione, una roba da fango totale, pagata con la mia carta di credito, non con quella della Margherita. Così come molte altre cose, così come nessuno ha mai riscontrato... Le faccio un'ultima domanda, se no si fermiamo su questo io ne ho altre 32. Ha ragione, vada. L'ultima domanda è che cosa è scattato nella sua testa. La sicurezza di non essere mai controllato né in quel momento né in futuro, perché poi deve rispondere all'altra parte della domanda che era che prima hanno fatto gli altri soldi. Però se non mi dà una risposta rimaniamo qui tutta la puntata su questo. Non c'è problema, la risposta è che era tutta la luce del sole. Tutte le spese sono state tracciate, erano attraverso bonifici bancari, erano attraverso assegni, erano attraverso riscontri documentari di amministrazione. C'era un collegio televisori dei conti, tre persone, espressioni, tutte le parti politiche della Margherita. C'era un comitato di usureria, organo politico, che poteva controllare e controllava tutto, perché ogni anno entrambi facevano delle relazioni. Quindi lei si sentiva assolutamente coperto? No, io non ero coperto, attenzione. Io facevo tutto quello che mi era stato detto di fare all'interno di un sistema di relazioni fiduciarie. Dentro questo sistema di relazioni fiduciarie, ogni organismo di controllo interno del partito aveva la possibilità, e lo faceva, di esprimere le proprie valutazioni, come lo statuto prevedeva e come loro ritenivano di fare. E ci sono carte per ogni anno che dimostrano questa cosa. Senatore, che fine hanno fatto gli altri soldi? Quelli che non appartengono a questa montagna di 23 milioni di euro e passa che sarebbero attribuiti a me. Io ho gestito per 11 anni 214 milioni di euro. All'inizio di gennaio ho lasciato in cassa più di 20 milioni di euro, e non 13 o 14 come sto leggendo da due giorni sui giornali. Più di 20 milioni di euro. Dopodiché ne ho gestiti quindi 194. Questi 194 milioni di euro, al di là delle lenzuolate che ho visto sbandierare in giro da foto di giornali, sono stati spesi o per attività politica o, negli ultimi anni, dal 2007 al 2011, per attività di cui io non conosco la portata esatta, ma che mi è stato detto di approvare e autorizzare perché quello stava all'interno di un patto fiduciario. Mi fa un esempio perché non sto capendo niente, mi perdo in questo... Allora... Ci sono delle spese, per semplificare, ci sono delle spese dove tu paghi delle fatture e quello che paghi lo ottieni. Per esempio cosa c'erano? Che ne so, spese di carta... Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa... Faccia un esempio perché la gente mi capiva nei partiti, non lo sa. Personale, carta, acquisti, di vario ordine e grado. Ma la differenza è fra quello che tu paghi e materialmente ottieni in controprestazione e quello che invece paghi e non ottieni in termini di prestazioni. Questa è la vera differenza. Allora, ci sono gran parte delle spese che afferiscono fino al 2007, fino all'inizio del 2008, alla prima, cioè c'è una corrispondenza fra il pagato e la prestazione che ritorna a fronte di quel corrispettivo pagato e c'è invece un'altra parte di spese che tu hai pagato e non c'è stata prestazione. Mi sembra chiaro, mi sembra chiaro. Il 20 giugno, quindi tra tre giorni, si deciderà se lei, senatore Lusi, andrà in carcere o no. Perché non dovrebbero autorizzare il suo arresto? Guardi, non dovrebbe autorizzare il mio arresto perché non ci sono gli elementi relativi al pericolo di fuga, all'inquinamento delle prove, alla reiterazione del reato, dei reati della stessa specie. Mi si può rispondere, ma guardi che un GIP dice che ci sono e un riesame ha detto che invece sussistono. E io ribatto, ovviamente stiamo già predisponendo gli avvocati di corso in Cassazione. Ma segnalo che di cose scritte in questi atti c'è soltanto che io parli con i giornali, c'è soltanto che io parli con i media e in particolare si fa riferimento a quella, l'avete anche richiamata voi nella scheda, maledetta trasmissione di servizio pubblico, non la trasmissione, ma il servizio trasmesso sul servizio pubblico, che era un mio colloquio privato, riservato, e io ingenuamente mi sono fidato di questo signore che è stato un bandito dal punto di vista della deontologia professionale. Scusi, adesso io non voglio entrare nelle acute a un collega. Ma non ci sono altri motivi a ragione lei. Però, scusi, scusi, lei dice ingenuamente mi sono fidato. Sì, ingenuamente. Rutelli dice io ingenuo mi sono fidato di Lusi, ma siete tutti ingenui. Io rispondo della mia, di ingenuità, e ne risponderò di fronte ai giudici e al Paese. Rutelli risponde a chi deve rispondere. Nell'ordinanza del 3 maggio, il GIP l'accusa dei reati di riciclaggio, appropriazione in debita, trasferimento fraudolente di beni e associazione per delinquere. Di quale di questi reati le si ritiene innocente? Senz'altro dell'associazione per delinquere, senz'altro dell'illecito trasferimento di beni, però vorrei precisare che l'arresto è chiesto solo per l'associazione a delinquere. Non è chiesto per gli altri reati. È il GIP stesso che scrive l'8 maggio di fronte all'ennesimo rigetto della richiesta di sequestro del software dell'amministrazione Margherita che il fascicolo è intestato appropriazione in debita, non associazione a delinquere. Sarà un refuso? Non lo so. Ma la richiesta del GIP è solo per l'associazione a delinquere, l'arresto e non per altro. I vertici della Margherita sostengono che nessuno ha mai sospettato di lei Lusi perché c'era assoluta fiducia e poi perché lei in realtà truccava i conti. Anche ieri nell'assemblea a porte chiuse della Margherita Rutelli ha ribadito che lei aveva una doppia personalità. È interessante questa tesi di Rutelli che ho già letto molte volte, addirittura ha detto che non mi conosceva, che non aveva rapporti personali con me, sembra più interessato a dimostrare la sua lontananza. Ho già provato a rispondere prima e sicuramente in modo impreciso. I conti della Margherita erano visti da tre soggetti diversi. Il primo soggetto erano i revisori dei conti, il secondo soggetto della Margherita, il secondo era il comitato di esoreria, rappresentanti politici delle varie correnti e infine era visto da un organo della Camera dei Deputati. Ora, francamente, che due ottimi commercialisti, mi dispiace che lo dica io, ma hanno lavorato per il Partito Democratico, hanno lavorato per Api, fino a poche settimane fa, possano essere lo strumento, come dice un giudice, della trasformazione, dell'amendacità complessiva di questa roba, è francamente tutto da dimostrare. Il fatto vero è che i revisori dei conti avevano in mano tutto, come ce l'avevano nel comitato di esoreria. E quindi è un po' difficile ammettere che abbia truccato i conti per 11 anni, quando soprattutto tutto era tracciato. Sempre i vertici della Margherita fanno notare che non è possibile che ci siano state spartizioni, quel patto scellerato 60-40, di cui hanno parlato i giornali, perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno degli occultamenti dilusi. Ma allora perché sono contrari alla mia richiesta di svelare tutti i conti della Margherita? Io ho chiesto di fare questa operazione, ho chiesto ai magistrati all'inizio di aprile, si chiama incidente probatorio, sui conti della Margherita, i magistrati non sono stati d'accordo, legittimo da parte loro, ma perché sono contrari i politici? Se vogliono avere un vestito completamente bianco, quale migliore occasione di mettere pubblicamente a disposizione tutti i conti e di verificare come le cose sono andate in 11 anni? Perché fare un'assemblea federale che approva un bilancio a porte chiuse e non renderla aperta? Perché inibirmi la partecipazione sospendendomi il giorno prima? Qualcosa non quadra. Senta, lei si difende dai reati che le vengono imputati, però ha ammesso appunto di aver preso questi soldi. Finirà per patteggiare? Non credo che ci sarà un patteggiamento, perché io devo recuperare una dignità personale di fronte alla mia famiglia innanzitutto, a mia moglie e miei figli, e di fronte al Paese. Voglio un dibattimento e andrò ad un dibattimento, quindi non patteggerò assolutamente. Il punto è un altro. Come io ci arriverò a questo dibattimento? Perché mi sembra di capire che se la richiesta di mandarmi in carcere è motivata al fatto che io non debba parlare e dire quello che penso su questa vicenda, è una motivazione un po' strana, comunque abnorme da questo punto di vista. Lei ha detto tutto quello che aveva da dire o ha ancora delle cose da dire? Qualsiasi cosa io dica che non sia oggettivamente riscontrato a un pezzo di carta, finisce per essere una denuncia per calunnia. Allora, io ho dato ai magistrati gli elementi per poter verificare, sta a loro legittimamente, io mi fido completamente alla nostra magistratura italiana, non sarò quello che, siccome è stato chiesto un arresto su di sé, allora parla male dei magistrati. Non avverrà mai, non uscirà mai dalla mia bocca una cosa di questo tipo. Mi fido. Abbiamo vari sistemi di giudizio, gradi, interlocuzioni, relazioni e rapporti determinati a un codice di rito. Sono sicuro che la verità prima o poi verrà a galla. Il punto vero è, io ho chiesto di scoprire le carte, io che sono indagato, com'è possibile che l'indagato chieda di scoprire tutte le carte in una cosa che può diventare domani una prova contro di sé e invece la cosiddetta parte offesa che si sente derubata e mal tolta neghi l'autorizzazione ad un percorso di questo tipo. Perché ha detto quella frase? Se parlo io salta il centro-sinistra. Beh, è una frase che non avrei mai detto pubblicamente, questo conferma che quello era un colloquio riservato e rubato. È una frase, francamente, che viene fuori da uno stato d'animo abbastanza appesantito. È una frase che non ridirei, è un po' eccessiva. Non credo che il futuro del centro-sinistra dipenda da me. Tra i suoi ex compagni di partito della Margherita, chi le è rimasto vicino? Così lo mettiamo alla gogna? Qualcuno. Cioè non fa il nome perché sennò sarebbe ulteriormente marginato? Direi proprio di sì. Ma lei ha temuto che potesse succedere qualcosa a lei personalmente, a parte quella specie di piccolo attentato che le hanno fatto? Fino a quella specie di piccolo attentato di percodini? No. Mercoledì che cosa le hanno fatto? Un signore incappucciato con un passamontagna ha versato una tannica di liquido infiammabile davanti casa dando fuoco alle centraline dell'Enel e alle entrate dell'abitazione dove resteremo ancora per pochi giorni. Spero che sia un caso isolato. Certo, se fosse successo in un condominio romano sarebbe stato molto più preoccupante per i suoi effetti. Lei ha mai pensato che con la montagna di soldi che c'era nella Margherita tra quelli che si è secondo l'accusa preso lei e ammesso anche lei e quelli che sono andati in iniziative di cui lei dice spesso non c'è non ci sono riscontri. Vabbè, questa montagna di soldi qui terrebbe tranquillamente in sicurezza tutti gli esodati di Italia. Ci pensa mai a questo? Non mi sembra che i numeri siano corrispondenti. Mi risulta anzi che il ministro Fornero ha dato delle motivazioni tenute rigorosamente riservate per non accettare quella strana proposta demagogica. Ci sarebbe da tenere in tranquillità un bel po' di famiglie. Se per questo con tutti i soldi ma spesi ci sarebbe da tenere in tranquillità le famiglie questo vale per tutti vale per i soldi dei partiti che se li sono ridotti per più della metà come vale per tante altre utilità marginali che non sono effettivamente sostanziali. Insomma, di soldi ma spesi al nostro paese non lo parecchi tanto è vero che il presidente Monti sta lavorando su una cosa molto seria che è la spending review proprio per andare a ridurre il numero dei soldi ma spesi. Mi sentirei francamente di non entrare in una dimensione demagogica che dica questi soldi potrebbero essere spesi meglio perché ricordo che quei soldi sarebbero comunque rimasti nella proprietà di Margherita allora era un leader di Margherita che doveva decidere cosa farne. altrimenti i cittadini pensano in quei soldi andavano al servizio pubblico e non è esattamente così. Com'è cambiata la sua vita da gennaio? Per strada la gente che cosa le dice quando la incontra? Ma intanto c'è un atteggiamento di attenzione di non esagerazione di riservo salutano qualcuno viene a dire sia forte ci sono persone mi ricordo la vedova di un magistrato che mi ha fermato sotto che io non conoscevo che mi ha fermato sotto lo studio legale di Roma e mi ha detto guardi lei tenga duro perché questi non possono passare la franca così ma potrei fare altri esempi ma tutte cose molto contenute molto sobrie. Le ho chiesto prima se aveva dei timori su come dire sull'incolumilità io sono preoccupato per i miei amfogli e per i miei figli se io vado in carcere perché il senato deciderà questa cosa mercoledì pomeriggio e mia moglie è ancora ingiustamente agli arresti domiciliari dopo che un tribunale di esame ha detto che l'unico pericolo era quello di fuga e i miei avvocati hanno consegnato il giorno dopo tutte e due i passaporti italiano e canadese e mia moglie mia moglie è ancora tenuta agli arresti domiciliari io sono preoccupato per mia moglie e per i miei figli. Che cosa farà se va in carcere? Beh, intanto i primi giorni sono di isolamento e dovrò attendere l'interrogatorio di garanzia poi francamente vorrei essere utile al paese ho già un'idea chiara su questo se la dicessi oggi sono sicuro che ci farebbero pubblicità negativa quindi me la terrò per me la dirò solo ai magistrati ha un'idea per essere utile a questo paese quindi ha altre cose da dire no ho suoi essere utile in questo paese durante i mesi di cancellazione preventiva che io ritengo ingiustificata la vicenda è destinata a fare della politica malata il principale motore dell'antipolitica l'ha detto Arturo Parisi che ieri ha lasciato l'assemblea della Margherita parlando di di golpe perché si teneva a porte chiuse eccetera lei pensa che questa sua vicenda è in qualche modo usata anche in funzione come dire anti-grillo pro-grillo cioè c'è qualcosa di più grande di lei in questa vicenda o no? Sì che non è direttamente collegata alla persona Luigi Lusi è collegata a un sistema e il sistema è che noi abbiamo un finanziamento della politica al quale si sta mettendo pesantemente mano con delle norme che sono state già approvate dalla Camera dei Deputati e che arriveranno al Senato fra poco nel quale manca il concetto di inerenza della spesa cioè quando tu spendi 10 euro deve essere chiaro che li spendi per il partito per l'attività politica e non per una cosa diversa in Italia non c'è ancora questo sistema è probabile che si arriverà ad inserirlo in tempi molto brevi perché i processi fanno cambiare tutte queste cose ma credo che Parisi si riferisse fondamentalmente alla gestione del rapporto fra i vertici di un partito politico e chi si assume le responsabilità finanziarie di quel partito politico che è il nodo non risolto della politica in Italia lei è stato tesoriere di un partito in Europa e lì i soldi glieli controllavano molto bene anzi restituivamo tutto quello che non era stato speso